Il Modena che ha preso un gol che poteva evitare ma che è stato bravo comunque a trovare il gol del pareggio e quindi a rimanere, a venire fuori da Budrio, campo difficilissimo con un risultato positivo. I gol si possono sempre evitare, è chiaro che ci mettiamo anche la bravura dell'avversario, devo dire che questo non è un campo facile, l'abbiamo già visto anche in Coppa Italia, questa è una squadra molto ostica che quando va in vantaggio si chiude bene e non ti permette più di creare, invece si è stati bravi e devo dire che la squadra è stata brava a contenerli abbastanza perché io ho visto giocare altre partite e hanno creato diversi problemi anche alle squadre avversarie. Tatticamente come hai affrontato la partita, queste tue scelte di cosa sono stato frutto? Chiaramente sono dettate da quello che vedo durante la settimana e per quanto riguarda Papo, Boscolo, sono convinto che quello è un ruolo che può fare benissimo perché ha grosse qualità sia nel prendere il palo e nel innescare anche gli attaccanti, come chiaramente lo è Fabio. Fabio Laurì ha fatto bene fino a ora, è chiaro che ho visto anche la possibilità di farlo rifiatare e Papo secondo me ha fatto una rischietta partita increscendo. All'inizio trova difficoltà a smarcarsi tra le linee, chiaramente è all'inizio di un nuovo ruolo, però sono convinto che lo può fare benissimo. Per quanto riguarda Stefano, Stefano è un giocatore molto utile che ha qualità anche da mezz'ala, lui ha fatto tutti i ruoli, io lo conoscevo da punta, poi man mano ha fatto il centrocampista e poi ha fatto il difensore, da terzino poi è passato, quindi è un ragazzo che ha grosse qualità di adattamento anche nei ruoli. Ti chiedo quindi la tua valutazione, bicchiere sicuramente mezzo pieno? Io sono tra virgolette contento perché comunque la squadra ha lottato, è andata sotto di un gol, ha rimesso in piedi la partita e ha rischiato anche di vincerla, percato che in alcuni momenti non si è stati lucidi, a volte si è stati frettolosi con delle ripartenze dove alcuni palloni potevamo sfruttarli meglio, sui palloni sporchi dobbiamo lavorare meglio, sulle seconde palle dobbiamo lavorare meglio. Ci sono delle cose positive, ci sono delle cose anche non positive, ma queste chiaramente fanno parte del gioco del calcio, vince sempre la squadra che sbaglia meno. Grazie.